Quello ci... Hai mai vinto i Rivals? No, mai vinto. Massimo... E oggi lo vinceremo. Mi deve essere oggi, magari ho il gita militare, dai. No, no, Massimo, settimo a quello di Apex. Minchia, se me stanno a sparao. Aspetta... Si sta piastrando, si sta piastrando là. C'è un altro. Ok. C'è un altro a sinistra, certo. Buono. Vai, vai, vai. Scendo. Fatto. Bello start, sì. Quanto ci abbiamo? Buono. Via! Ci sparano, vai! Scendi, scendi, scendi. Una a sinistra... Una è sceso, già, una è sceso, eh. Questo ci faceva esplodare tutti e due. E' un altro a B. Lo dobbiamo io. Sotto. 6 metri, 6 metri, 6 metri. Oddio, cecchini davanti. Davanti dove? Digliamola B, digliamola B. Aspetta... C'è la gente? Digliamola B, se riesco, aspetta. No... Sono bravi? Uno cecchina e uno bush. Ciao, bro. Ciao, ma. Sei sopra, sotto, dove stai? Sotto, ma loro lo sanno. Madonna. Madonna. Dai, quella che è cecchinata, mamma mia che palle. Guarda che chi va appata. Mamma mia. Di chi va per... Via, via. Volo. Vendo il camion e vado verso la cosa. Via! Raccato. Mi mirano da sotto, da sotto, da dietro. Mi hanno mirato. Mi ha dietro di noi. A posto. A posto. Qua. Stava qua. Stai a cercare. Mi ha dato la poverina a questo. Tant'è che ha fatto... Oh my god. Fai da me. Scenne 3, 2, 1. Raccato. Sto a prendere l'elicottero. Abbiamo il team sotto e uno sopra. Due qua da me. Ecco te, ecco le scenne davanti. Lo so. Mi ha craccato. Minchia. Uno fatto. 17 colpi mi bastano. A posto. Gli altri... Gli altri non li vedo. Dove stanno? Davanti a noi sopra qui. Te lo pingo. Vai. Qua l'ho pingato eh. Riesce a prendere sta super taglia così. Oh macchina c'è il C4. C4. 3, 2, 1. Non ci serve. Oddio. Chi è che ci ha sparato però Andy? C'è chi davanti a te. Guarda i cecchini. Dove? Non vedici. Cecchini da davanti. Davanti verso la taglia super taglia. Vai giù. A quella casetta c'è gente. Bombardo. Altra gente qua. E' accaduto uno. Abbiamo l'elicottero sopra pure. Facciamo l'elicottero a te. Arriva. L'elicottero, l'elicottero. L'elicottero è rotto. Stai solo. Stai solo. Stai a mirarmi? No. No, no. Stanno le casette. Stanno le casette qua. Se sparano con un altro team è più sopra. Arriva, arriva, arriva. Stai, 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 stai. Bravo. Guarda la taglia qua. C'è uno davanti a me. Sta scappato. Mi sa che vola. Mi sicuro vola. Due alle tendine di Metropolis. Qua, le tendine a destra. Facciamo quelli la. Guarda, pa, pa, pa. Arrivo. Guarda, se l'hai qua. Se l'hai qua, facciato. Lo vedi? Adesso te lo spiega che sta facendo. Quanto è meglio? Quanto è meglio? Quanto è meglio? Guarda, guarda. 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 E' volato. E' volato. E' volato. Guarda. Appena è stato. C'è uno dietro. E' dietro. C'è uno dietro. Fatto. C'è uno che vuole. Ha aperto. Ci tiro fra me. Ah, sono. Secondo piano. Bravo il Cissi. E' passato a destra. Eh, mi si fa, mi si fa. Mi provo a curare. Ci provo, ma è tolta. Gli embrasola, gli embrasola. Bel grappolo. Bella cover. L'hai fatto? C'è un altro? No, no, no. Questo è il prossimo. Forse, lo so. Stacco sotto. Mi viene da destra. Lo rivedo. Fanno boomerato. Arrivi. Vai, sta là. Mi sta là, sta là. A posto. Prendi, prendi l'altra, prendi l'altra, prendi l'altra. Fanno qua a sinistra. Ho 34k. Io non ci abbiamo CFS. Che favo? Lo prendiamo? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Facciamo prima loro, facciamo prima loro. Chiappa strizza. Li vedi? C'è uno più close, c'è uno più close. To Santo. Falciato. Fatto? Di to itserno in eitty. GraZY, inherenti. Crackato, uno. Clackato, uno. Gibombardo. Girare a sinistra, girare a sinistra. Fuộ. Fatto quello la, fatto quello la. Clevisione, bene compare. mamma mia mamma mia iddio vanni che io ho fatto a quello un altro con il grosso e lo corsa il grosso sotto fatto un altro fatto un altro fatto un altro bene va bene va bene si rialza pure l'alto allora rinoccato un altro qua 3 2 1 saccio serio raccato dietro la roccia qui in questa si si c'è un altro pari davanti a noi qua c'è uno close c'è pure la cassa black aspetta aspetta prendo la cassa munizioni aspetta aspetta prendo i bombi bello questi salgono eh fatto l'ho fatto Andy fatto l'ho coperto il secondo con la sinistra e il primo con la carella ancora è vivo dopo prima sta il carella di Nedgic lo sturno la madosca lo sturno fatti tutti tutti mi sto a male l'ho massacati Andy l'ho massacati buon boll di vicino non è al caso arrivo io arrivo io faccio io ecco ecco mamma mia all'ultimo all'ultimo bi bro ci siamo coperti cheater bel game bravo Andy endgame è pauroso ci siamo coperti proprio endgame è pauroso bella ragazzi GG ragazzi bravo ragazzi bella ragazzi bravo è un bastardo muon raid quello si mi hai fatto mentre lo mettere era FK è andato a accendere il forno ma cazzo me lo potete dire che veniva da te se mangiamo pure asagne bar con due bella ragazzi bella ragazzi si sognaffa buona giornata buon pranzo bella raga e muo arriva Jack arca puttana porca e muo arriva Jack eccolo qua bella OTHER FRIEND Oh, that's right, I heard the story Don't really like how it ends Gee, it's swell to finally beat her OTHER 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 FRIEND